Buonasera, buonasera, grazie. Io sono Frenkie iEnergyMC, normalmente faccio il rapper e alle volte l'intrattenitore. Io purtroppo non ho una competenza specifica nei temi che vengono trattati, che sto sentendo trattare da persone che hanno un focus estremamente preciso, puntuale, su questi temi che poi sono gli argomenti di Expo dei Popoli. Io quello che so fare è dare delle opinioni, ho campo dando il mio punto di vista. E questa sera, su invito di Expo dei Popoli nella persona di Maso Notarianni, sono venuto a fare una piccola riflessione sui concetti di miseria e di povertà, che in maniera estremamente strana e promiscua si confondono nel nostro linguaggio quotidiano. Come sapete, io ho avuto un trascorso, sono stato inizialmente arruolato per la rassegna, la manifestazione, nella fiera del Food and Beverage Expo 2015. Volevo chiedere scusa, io ho capito l'Esbo 2015, mi ero immediatamente infiammato, però successivamente ho capito di cosa si trattasse e ho capito che effettivamente non facesse per me. Successivamente, il giorno in cui ho rilasciato la dichiarazione nella quale rinunciavo al mio incarico di ambassador, qualche ora dopo sono partito alla volta dello Zambia insieme a, tra l'altro, a una delle ONG, che è anima di Expo dei Popoli, cioè Acra CCS, e lì ho avuto ulteriori occasioni di riflettere su questo tema, su questa differenza. Il tema del mio intervento è miseria e povertà. Questo cartello l'ho scritto soltanto per il piacere di poter utilizzare il font comic sans serif, che è il peggiore. Non l'avevo mai fatto, mi sembrava una cornice adatta. Allora, che cos'è la povertà fondamentalmente? La povertà significa non avere mezzi, avere mancanza di cose pratiche per conseguire dei risultati. Africa, Zambia e le strade sono così. Questa è una strada buona e questo è un villaggio povero. Questa cosa che vedete adesso viene normalmente indicata come povertà. Questo è un villaggio povero, questo è un bambino povero in un villaggio povero. Vedete alcune costruzioni sono realizzate in mattoni di fango a secco, i tetti sono in staglia, altre sono direttamente costruite con una malta di fango. Questa è un'altra capanna. vorrei che vi soffermaste, non tanto sulla parte alta dell'immagine, ma sulla parte bassa di queste immagini che vi sto facendo scorrere, perché i posti poveri non sono sporchi. Sono talmente poveri che non hanno l'immondizia probabilmente, ma non sono sporchi. Non c'è deperimento, non ci sono cartacce, bottiglie, verdure marce, cacca di animali. No, c'è terra. E com'è possibile questa cosa? Sono poveri e si prendono addirittura il lusso di pulire. È strano. Normalmente il compito di pulire intorno alle capanne ce l'hanno i ragazzini, le ragazzine soprattutto, che normalmente si svegliano alle quattro del mattino e accendono come prima cosa il fuoco e poi iniziano a spazzare intorno alle loro capanne, alle loro abitazioni e si fanno quindi più o meno le sei all'incirca e a quel punto vanno a scuola. Partono a piedi, 3, 4, 6, 8 chilometri in alcuni casi, a piedi, in uniforme, perché sono poveri, ma hanno questo vizio di mettersi in uniforme per andare a scuola. E hanno anche il vizio di essere orgogliosi di indossare quell'uniforme. Si sentono forse un po' l'esercito del sapere, no? Questa è una scuola, è una scuola abbastanza fortunata perché è costruita in mattoni, perché ha una discreta copertura, anche se questa nella fattispecie dovrà essere riparata. Loro sono studenti, sono bellissimi, c'è una bellezza in Zambia, perdonatemi la digressione, che trascende il sopportabile, viene assalito in ogni dove, bambini, anziani, pochissimi anziani che ci sono, adulti, però hanno una bellezza straordinaria e ti senti guardato negli occhi per tutto il tempo. È un'abitudine alla quale, diciamo, che non avevo più a stare qui in Italia. E questa è una classe di una scuola povera piena di studenti poveri, che però stranamente sono ordinati, puliti. Erano in silenzio quando siamo entrati insieme all'amica Patrizia Canova e c'era una stranissima cosa. La povertà è strana, fa fare delle cose strane alle persone. Cioè, abbiamo scoperto che essere poveri significa, per esempio, nei casi in cui ci siamo trovati, essere educati, essere puliti, essere generosi. Strana. Questa scuola è una scuola fortunata, ripeto, nonostante manchino i vetri. Ci sono gli infissi, ma non ci sono i vetri in questa scuola. Ma stanno lavorando per poterli fare. Ma chi sta lavorando per poterli fare? I genitori. Questa è una scuola comunitaria. Esistono due tipi di scuole in Zambia, le scuole governative e le scuole comunitarie. La scuola comunitaria è una scuola che viene fisicamente costruita dai genitori, che in alcuni casi realizzano i mattoni e poi, sulla base di un progetto che fanno, iniziano a costruire gli edifici e tirano sulle coperture e mettono i tetti e pagano i professori. Persone che abitano in villaggi, in quei villaggi poveri, puliti ma poveri, pensano che mandare i propri figli a scuola sia una cosa importante per loro, ma non solo per loro. E quindi si autotassano e pagano i professori di tasca propria affinché i figli vadano e comprano anche gli uniformi ai figli perché vogliono che siano ben ordinati quando vanno a studiare. E questi genitori, qui sono in una classe che viene utilizzata anche come magazzino. Ripeto, questo è un edificio abbastanza fortunato perché ha pareti, ha pareti tutti intorno. Normalmente sono una parete di testa, una in fondo, a tutta altezza, che tengono su una copertura, la belle meglio, e poi ci sono muretti alti meno di un metro dalle parti, non c'è praticamente mai il pavimento, spesso non ci sono neanche i banchi. C'è una lavagna e c'è un professore, c'è una classe che sta attenta. E questi genitori hanno una nobiltà nel richiedere aiuto sotto forma di progetti, non sotto forma di denaro. Nessuno ci ha chiesto del denaro in tutto il periodo nel quale ci siamo trovati a girare quattro, cinque strutture ogni giorno. Nessuno ha chiesto soldi. Tutti però chiedono dei progetti, chiedono un aiuto per poter fare qualcosa. Per qualcosa? Per loro, fondamentalmente. Loro sono due bambini poveri. Vedete, questo di qua è evidentemente il più povero di questo. Forse perché questo ha due mosche, quindi quell'altro. Ma non dico queste cose perché le voglio prendere per il culo. Non hanno problemi alimentari. Probabilmente uno dei loro genitori sarà sieropositivo, visto che un adulto su sette in Zambia è sieropositivo. Magari uno di loro due, o entrambi, spero proprio di no, è sieropositivo a sua volta, perché in molti casi la sieropositività della mamma al momento del parto passa al figlio. e questi ragazzi hanno un'aspettativa di vita media di 49 anni. L'età media dello Zambia è 16 anni e è una nazione di adolescenti. Poveri, però sono puliti. Poveri, ma che chiedono dei progetti, che chiedono delle idee. E ragazzi, in una nazione in cui i trasporti hanno questo tipo di standard, è evidente che bisogna guardare con un occhio specifico al tipo di aiuto, di intervento che deve essere necessariamente rispettoso. Però, ripeto, la caratteristica di trovarmi in mezzo a così tanti poveri, senza nessuno che mi chiedesse un soldo, mi ha veramente stupito. Ma allora, io sto parlando un sacco di povertà e non ho ancora parlato della miseria, mi accorgo. Questa è una latrina di una scuola, ok? Questa è un bagno povero di una scuola povera in una nazione povera, ok? In questa latrina ci devono andare loro, ci devono andare i ragazzi e le ragazze. Le ragazze, durante il ciclo, in una nazione in cui è difficile trovare assorbenti, magari smettono di andare a scuola e non hanno una tutela di privacy. Però attenzione, forse merita uno sguardo più attento. Di fatto, il bagno povero della scuola povera è un buco per terra, con una palizzata costruita intorno, si utilizza finché si utilizza, quando è pieno lo sottura, si prende la capanna, si sposta un po' più in là, si fa un altro buco e si va avanti. Allora, se questa è la povertà, che cos'è la miseria per me? È l'Intercity Milano-Napoli di un qualunque giovedì dell'anno scorso. Questa è la miseria, secondo me. La miseria è vivere, essere un paese del primo mondo e far pagare per un servizio che è ben distante, in termini di standard igienico, da quello di un bagno povero, di una scuola povera, di una nazione povera. Stiamo peggio qui. Almeno nella latrina la cacca non si vedeva. Qui invece è in bella vista. La miseria è questo. La miseria è fottersene del prossimo, fondamentalmente. La miseria è non mi va, anzi, gommia voia, come si dice a Cremona. Questa è una foto che ho fatto a Cremona, non distante da dove abito. Ed è un genio quello che ha pensato di appoggiare direttamente al cartello di vieto di scarico, dove c'è il numero, ritiro a domicilio. Si sono scordati di scrivere gratuito. Se scriveva gratuito metteva anche un divano, probabilmente. Comunque due settimane dopo ci ha ripensato, in effetti. La miseria è questo. La miseria è uno stato dello spirito, ragazzi. Significa, io sono bravo perché io faccio la differenziata. E diavolo brutto schiacciasse una bottiglia. Nel buzzo accanto, non avevo la macchina fotografica con me, c'erano un giorno due scatoloni, vuoti, ma montati, che riempivano completamente lo spazio della carta. E attorno, l'apocalisse, montagne di merda. La miseria è una questione dello spirito, è uno stato dell'anima, è una carenza che trascende dal possesso materiale di beni. E la mancanza di qualcosa di più profondo, di più spirituale. Sa anche essere fintamente educata la miseria. Si prega gentilmente ai pedoni di non sostare davanti al cancello per la quiete dei cani. Per favore, abbaiano, soffrono. Io sono per strada, io passo per strada, e quindi sono sulla pubblica via. Però dai, fai due passi in più, per favore. Anzi, stai proprio lontano perché i cani possono disturbare i vicini. La miseria è non prendersi la responsabilità di avere due cani cagacazzi, ok? E si butta la spalla prima sulla schiena di chi passa per strada, poi su quella del vicino. Ma si esclude il fatto che ci sia una propria responsabilità. Siamo fuori da questi giochi. Poveri cani, li disturbate, loro si incazzano. Non è bello, non trovate. Quindi le amministrazioni comunali giustamente intervengono perché fortuna vuole che ci sono persone che si rendono conto del nostro problema. Noi siamo uno stato in avanzato stato di miseria. E quindi cercano di aiutare, di suggerire, di dare una direzione. È fatto obbligo per il conduttore di rimuovere gli escrementi. Io me li immagino questi che si sentono conduttori di un Basset Hound che tira giù. Perché sono Basset ma sono Hound, ricordiamocelo. E adesso, perdonate, il problema, la miseria da dove deriva? Cioè qual è la radice prima, secondo me, della miseria? È l'ignoranza, è l'ignoranza crassa che ci pervade, che pervade anche me, che pervade con un cucchiaino ognuno di noi. Qualcuno ha delle betoniere intere pronte a rifornirlo di nuova ignoranza fresca da poter mettere in campo. Adesso scusatemi se l'assonanza potrà essere tremenda, ma l'avvolgente cremosità di una schiuma di caffè, provalo anche ricettato. Cioè devi trovare un pusher? Come funziona? Ma tu che sei lì, ce l'hai un cazzo di vocabolario? Ce l'hai Google nel tuo studio dove stai facendo comunicazione per dei ragazzini che sul litorale adriatico, dove ho fatto questa foto, possono anche desiderare di provare qualcosa altro di ricettato? Che lì si è sempre trovato molto bene, tra l'altro, in passato purtroppo. Vabbè, quello è un altro discorso. Cioè una grande istituzione, un ente importante, il club alpino, con tanto di timbro e di firma, spiega che è vietato i minoranni salire al soppalco, cazzo, al soppalco. E questi sono persone che hanno dei luoghi di potere, il problema è l'ignoranza. D'altronde, il cinema moderno di Roma, vicino alla stazione Termini, è in questa situazione, credo già da 40 anni, più o meno. Questa è la penultima volta che ci sono passato avanti, l'ultima volta c'erano tre ragazzi che si stavano girando una spada e non ci si può lamentare del fatto che ci sia ignoranza. No? Questa è la nuova stazione di Roma, la Tiburtina, quella dedicata ai Frecciarossa. Uno, vedendo una cosa del genere, dice che culo che non ho il 20. quantomeno. La comunicazione che viene fatta è a questi livelli. Adesso, capisco che tu pensi che il pubblico sia irreparabilmente, irrecuperabile, che non capisca una mazza, però è evidente che qui, a meno che uno non... ma... bisogna essere belli... e allora perché guasto lo scrivi in mezzo? Cosa mi vuoi indicare? Cioè io arrivo lì, me la sto facendo addosso, giuro, giuro, gli avrei rubato il sacchetto di plastica e sarei andato via, pisciandomi addosso con questo sacchetto, perché è una provocazione, cioè tu sei quello che ha il potere e che vuole istruire, vuole aiutare me e come mi aiuti? Mi fotti, dicendomi che i binari dall'1 al 16 sono di là, però quelli dall'1 al 19 pure. Cioè, siamo costretti, visto che siamo in una nazione in cui c'è certa povertà, che... e non solo certa povertà, cioè alle volte la povertà si mescola con la miseria, non scherziamo, non è che sto facendo la santificazione del povero e i borghesi del mondo evoluto, sono tutti delle mer... per carità, non mi permetterei mai, però guardando per le leggi grandi numeri, cioè bisogna scriverlo, oh, guarda che se lasci la roba di valore in macchina magari te la fottono, può essere, può essere che rimanga questa cosa, ma questo è un aiuto di servizio, ma in un ospedale italiano del centro Italia sarà accettabile questo? C'è della miseria? Non riconoscete anche voi la miseria in tutto ciò? No? E quindi verrebbe da dire che... e se io non devo salire né scendere... questa è la miseria? Cioè, ti do una comunicazione e poi te la ripeto... io mi metto nei panni di un diversamente abile che vorrebbe arrivare lì e dire sì, sì, è il mio posto e vorrei che non fosse scritto in questa maniera, che non mi fosse riservato in questa maniera. D'altronde quando uno va in una caffetteria romana... viene... questo qui è il tipo di comunicazione che viene fatta, ma il problema è l'ignoranza, è l'ignoranza. Fortuna che un periodico Lombardo, di cui non fare il nome, ci spiega che al di là del terrorismo islamico e dopo dieci anni torna la paura. Ragazzi, i nuovi insegnanti, il 60% saranno meridionali. Ma risolveranno? Chi può dirlo? Io ho capito però che l'ignoranza è il cancro del nostro tempo accompagnando un'altra importante ONG, Action Aid è una ONG, giusto, una ONG, Action Aid, in una missione in Brasile un paio di anni fa, insieme a Lillo, della coppia Lillo e Greg, e a Alex Braga, della trasmissione 610, e siamo andati qua. È l'entroterra dello stato di Bahia, non mi ricordo come si chiami questo posto qua, perché è un posto strano, dimenticato da Dio, cioè sembra il far west, tagliano gli alberi alla stessa altezza dei tetti delle case. Non me l'hanno spiegata, non sono stati capaci di spiegarmela, però c'è questa piccola ferrovia che attraversa un manipolo di case, che porta carbone avanti e indietro, e poi lo riporta indietro e avanti. Siamo andati a visitare una scuola, in quell'occasione, a un certo punto vengo improvvisamente circondato dalla gang del paese, e che come vedete, insomma, sono dei bei delinquenti. Tra questi delinquenti, di cui immagino lui essere il basista nella fattispecie, tra questi delinquenti c'è quello lì in alto, quello dietro del tipo con la maglietta rossa, che c'è il collettino giallo, che dall'alto dei suoi nove anni mi si avvicina e mi fa in brasiliano, portoghese, ci siamo capiti, abbiamo avuto un bello scambio, e mi dice, ma scusa, ma in Europa dove stai tu? Come sono i soldi? Allora noi abbiamo l'euro, esiste una comunità di più nazioni, un euro equivale a 2,66 della vostra valuta brasiliana, eccetera, c'è un consorzio, bello, bello, ma ce l'hai da farmeli vedere? Apre il portafoglio e avevo un pezzo da 50 euro, e dico, ma guarda, questi sono 50 euro proprio docente in pieno, quindi fatemi il conto, in quanti reais sono, eccetera, questi che volevano vedere i soldi, come erano fatti, li prendono e se li iniziano a guardare, se li passano, e dico, vedete, scritto in due lingue, scritto in caratteri anche greci, perché la Grecia fa parte, almeno all'epoca, faceva parte, si girano, sta ganga, sta banconota a 50 euro, e me la ritornano, e lui ritorna all'attacco, e dice, ma le monete, come sono le monete? Riapre il portafoglio, e tiro fuori una moneta da un euro, e dico, oh, fantastico, un euro, l'unità base del sistema monetario europeo, questa moneta vale 2,66 euro, faccio tutta sta pantomima, gliela metto in mano, e questo ragazzo, prendendo in mano la moneta, la gira ed esclama, ah, ma questo è l'uomo vitruviano. sì, cioè, scusa, tu conosci l'uomo vitruviano, e lì guarda come si guarda giustamente un cretino, mi fa, sì, non è quello disegnato da Leonardo, e dico, sì. No, considera che se tu vieni a Cremona, per dire è una città, abito lì, ma a Sondrio, a Bagnara Calabra, e fermi 100 persone per strada, e gli chiedi, chi è l'uomo vitruviano? vitruviano? Guarda, non azzardo neanche un pochi, pochi, credimi. Senti, facciamo una bella cosa. Allora, mi sei piaciuto veramente tanto, e io facciamo che questa moneta la regalo alla scuola, ma tu ne sei il custode. Cioè, diventa una dotazione scolastica, però la conservi tu, e facciamo che tutte le volte che dovete parlare dell'euro, dell'uomo vitruviano, dei bimetalli, di qualunque sia del cerchio, qualunque sia una motivazione che secondo te è valida per citare, tirare in causa, in ballo questa moneta, tu la tiri fuori e la fai a rivedere a tutti quanti. Ah, va bene, va bene, va bene. Questo si allontana. Dopo un po', mi sento tirare la giacchetta e mi ritrovo lui. Ma dopo che l'ho fatta vedere a tutti quanti, te la devo ridare. Fio mio, no. No. La vedranno altri dopo. Questa è diventata come la lavagna, come i computer, la cattedra, è diventato un pezzo della scuola, ok? È un pezzo della scuola, di proprietà della scuola, ma lo custodisci tu. E allora lui se se n'è andato, poi dopo altri cinque minuti, ho sentito tirarmi nella giacchetta e lui mi fa, ma quindi adesso ti devo dare due reais e 66. 66. Cioè, c'è ancora i brilli, l'ho raccontata un milione di volte questa cosa, ma è troppo bella, è troppo bella, ma ha fatto capire tante di quelle cose con questa attenzione al bello, cosciente di un valore, eccetera. Però è la bellezza, è il sapere che c'è lì dentro. Se volessimo dare un'immagine alla miseria, io, avete capito che mi piace fare le fotografie, e io sceglierei questa. Ma non tanto perché c'è un mazzo di fiori che rappresenta la bellezza, poi un mazzo di fiori non arriva mai non corredato, diciamo, di un sentimento, di un motivo, di un qualcosa. Ma la miseria non sta tanto nel fatto che questi hanno preso il bello dei fiori e l'hanno buttati via. Ma porca puttana nella plastica. E se dunque questa qui deve essere l'immagine della miseria, credetemi, io per tutto il resto dei miei giorni spero di convivere con l'immagine della povertà. Grazie. Grazie mille.